Professor Caroni, quanto importante è che il Centro Studi l'abbia nominato ambasciatore d'Italia per il Centro Studi, soprattutto pensando alla cultura italiana e al mondo? No, è molto importante, come ho detto nel discorso introduttivo, io ho fatto due ragionamenti, uno di tipo Milano, l'altro di tipo istituzione Grande Milano. Allora, Milano è un fatto che è una capitale pulsante d'Europa, ma da secoli a questa parte. Guardi, qui sono partito nel discorso da Leonardo, ma potevo partire da prima, dal Tardo Gotico, insomma è passato Giotto anche da Milano. Poi Leonardo, che è un fulcro dell'arte europea del Cinquecento, poi Seicento, il Settecento milanese è fondamentale e poi si arriva nel Novecento, voglio dire non per nulla, il Novecento comincia con Umberto Boccioni, con la città che sale. E poi io personalmente ho vissuto nell'arte contemporanea, ho visto gli artisti di New York chiedere ma cosa fanno i collezionisti lombardi, nella fattispecie la panza di biumo. Quindi Milano è una capitale pulsante d'Europa e anche di più e spesso non lo sa o se lo sa non lo valorizza abbastanza. Questo è la cosa. E poi c'è il discorso Grande Milano, che è un'istituzione molto rara in Italia, rarissima, che assomiglia a un tipo di istituzione anglosassone, inglese e soprattutto americana, cioè un gruppo forte di privati che agisce all'interno della società. Allora, lei mette insieme, scusi, chiudo, lei mette insieme l'importanza storica di Milano, l'importanza della Grande Milano, il fatto che mi fanno ambasciatore, cioè mi invitano a dialogare nel mondo, io sono servito, più contento di così non potevo essere. Professore, le chiedo, non so se lei ha visto la mostra di Caravaggio a Palazzo Reale. Certo, ne ho parlato in televisione. L'ho trovata una delle più belle mostre che io abbia mai visto tutta la mia vita. È una mostra molto seria, è una mostra seria, in cui, prima cosa, tutti i Caravaggio sono veramente Caravaggio. È una mostra seria, quindi... Soprattutto c'è questa indagine sullo stile di pittura... Esatto, quello è un ordine di problemi, di indagini che si è avviato negli ultimi vent'anni, grosso modo. Cominciò il Palazzo Pitti a Firenze, io ero nell'illavorazione di quella mostra, e quindi è un'indagine proprio sul tipo di pittura e quindi buona cosa. Per esempio, il fatto che Caravaggio da giovane partisse dal fondo chiaro per raggiungere gli scuri e invece dopo partisse dal fondo scuro per metterci le luci, beh, è fondamentale per capire Caravaggio. Attraverso le radiografie, quindi è stato possibile individuare il modo, lo stile in cui lui incideva proprio. Ripeto, questo è da allora che si disse, si cominciò a dire che Caravaggio disegnava col fondo del pennello, con la base del pennello, col manico del pennello. E quello è vero, ma adesso si sta procedendo ulteriormente, cioè per esempio adesso si sta scoprendo che Caravaggio disegnava anche cose che per lungo tempo è stato escluso. Questa è la dimostrazione che Milano è una grande città di valore internazionale. No, mondiale. Milano e Caravaggio è nato a Milano. Ecco, hai capito? Io quando feci nel 2000 la mostra Il 500 Lombardo, sottotitolo, da Leonardo a Caravaggio, volevo dire questo, che c'è una continuità proprio nell'idea, nel pensiero della pittura. Come diceva il mio maestro, diceva che l'arte è il pensiero in figura. C'è un pensiero in figura che comincia con Leonardo e passa da Caravaggio.